bentornati amici e bentrovati di nuovo sul canale predone e bentornati con il nostro Williams Kennedy e il nostro buon resident evil 4 allora non mi ricordo dove stavamo amici allora abbiamo passato la rotta dobbiamo andare al punto giallo ok excuse me aspetta guardate un attimino cosa ci aspettava un tesoro dell'espansione un tasò vabbè procediamo sì ecco carino no ma sei simpatico eh eh no così non va bene mi uccidi così a botta secca questo volevo fare perché non riuscivo che cazzo no ne so non volevamo più morire comunque ragazzi ben trovati con un'altra se lo spante è caricetta spuppiamoci questa va così aumentiamo anche la nostra energia infatti è quello che dico per io leon cosa sono pittori ruprestri ma sicuramente qualcuno che tagliava la testa qualcun altro che razza di posto è ma che ne so leon una specie di tempio lo stesso che ho visto alla chiesa ci va qualcosa che cosa che cosa è il lago è il mostro pure c'è pure il mostro ecco grotta con diventi murale divindi i famosissimi divindi il nostro buon amico no c'è solo un forziere potremmo aprire perché non abbiamo ah no chiave degli altarini ah forse questa è una chiave universale che apre tutto che sfida c'è qua un uovo di gallina dorata così mi dà bene qui non trovi vendi un uovo di là dorato scusate non specificata l'area è toccato la valli è stato pieterati che cos'è quello no scusa ma rimetti al fucile una cassa non so perché ragazzi ma immagino che saranno calci in culo vediamo qua che c'è ah ma questo è dove stiamo c'è il venditore qua sopra eccolo infatti vedi ho un po' di novità in vendita benvenuto ho delle novità io che c'ho da venderti niente arriviamo anche qua e vediamo dove ci troviamo ecco qua mi sembra già che ci sia un comitato di benvenuto niente bene 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 no non viene raga risorse 300 pezzettas pezzettas è nato sto cazzare ma che davvero sì sono io te fai venire in mente perché te vuoi trasformare se non c'è se non c'è guarda proprio perché 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 perché voglio dire che vediamo è ta Ah mio! Accidete! Fortuna che ho aumentato le caratteristiche della pistola in velocità. Ziff! Accidete il mostro! E' un po' qua te. Nel frattempo che si spenge. Mischiamo subito queste due piantine. Scale. Scale. Attaccate al cazzo. Ah dove apri la porta scusa. Stiamo vendo. Allora. Allora! 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 E dai lo avevo vista. A te eh, amico mio! e mori dove stai dai che ancora gli acchieri dai lassù brutto cazzaro stai lassù cazzaro mio rimasto 15 proiettili almeno questo la pianta gialla ottima aspetta ora vengo sopra aspetta aspetta il prossimo e dai state finiti? beh dicevo volevo bendire ma anche perchè ce ne avevo un pochette ma avete ritorto tutte e dai basta preferisco sempre quando siete in due o tre si fai 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 sto giochetto però ogni tanto dammi un po' di munizioni ma parecchie granata frammentation si dovrei utilizzare anche quelle in effetti aspetta un attimo fammi un po' un po' di roba ma non mi sembra che ci siano grandi riferimenti no? aspetta non è la prima volta che ne vedo uno ne ho già visti qualche d'uno ne ho già visti qualche d'uno so sicuro di averne visto un altro ragazzi almeno un altro so sicuro guarda dove si è avvenuto allora 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 ricordandoci i simboli questo poi questo questo si ammazza che culo ma ci ho ricordato a botta secca ho botto da sotto testa della postata chiudi simpatico come scherzetto questo eh quindi adesso tanto qua andiamo a vedere c'è un tesoro ci dice via via dalle palle muori bravo dammi i soldi che mi servono allora da questa parte di gg c'è un tesoro questo non lo so vediamo o forse qualcos'altro eccolo scendiamo da qua una lacrimuccia viola eccolo la eccolo qua un gettone d'argento bene questo ce lo siamo puppati quindi non penso che ci sia più nient'altro possiamo anche andarcene ecco abbiamo finito i proietteli grotta con diventi murali sì ora prendiamo la nostra barchetta no dobbiamo andare un attimino là perché volevo andare a salvare esatto qua c'è il nostro amico venditore mi permette di attaccare mi permette di attaccare sì infatti ce l'ho già stato vabbè via via non ci sta niente non siete utile al momento allora dobbiamo andare volevo andare a vedere tira un po' giù volevo andare a vedere qua amici dovrebbe essere quello sì no no mazza non sai vedo il nostro attracchio albe o un po' di galline sfasciamo tutto munizioni ottime uovo di gallina in caso buoni ci mangiamo uovo di gallina marrone uovo di gallina dorato c'era una questa mi sembra che bisognava consegnare l'uovo no lacrima viola buono ottimo ci siamo buppati penso tutto amici io penso che ce ne possiamo anche andare guardate hai fatto un altro un altro vetto gallina no vabbè vorrei dire che me ne mangio uno vorrei dire che me ne mangio uno adesso dobbiamo andare al centro dell'isolotto che ci starà di bello qua sopra alessandride per uno e qua la red nine che però non possiamo prendere perché non abbiamo spagio la colonia dovrebbe essere quella davanti a noi là ci sono un po' delle rosette salve polizia di laconside no non è vero laconside ma ne esiste più la c'era un fuoco e l'ho visto quindi vuol dire che c'era qualcuno come da quella parte non è vero laconside ma ne esiste più non ho non è vero laconside ma ne esiste più 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 detto tra noi eh...detto tra noi amici cioè non che io voglia insistere avviciniamoci un attimo il zoom perché c'è un sacco di robina da prendere ecco porca pupazza...dai Eleon allora una l'abbiamo trovata...andiamo verso la casa dove dice che ce ne indica un altro se dice dritto per dritto qua però questo...ah queste sono quelle chiavette piccole, infame...sì...merda allora questo purtroppo niente però se facciamo il giro...dove c'è la scala a parte no c'è ne uno prima...dice qua dietro è uno degli altarini proprio non c'è la scala ma la chiave l'ho persa no vabbè scusate quindi è utile possiamo aprire tutti questi piccoli altarini sparsi nel gioco che troviamo allora dice che nella casa c'è un posto per passare dietro ma che cos'è qua? guarda...questa è una sacca che l'avevo già vista vero? si si e c'è qua sotto dove c'era quel fenomeno di Luis la prima volta che l'abbiamo liberato la mia bravata fine si è spenta dobbiamo aver dato il suo figlio anello con rubino...buono e sta in età che c'è poco da fare... che cazzo succede qui? sicuramente come si dice non stanno bene zoomiamo un attimo tesoro dell'espansione alle mie spalle cioè qua sì forse adesso riusciamo senza sprecare i soldi e proiettili scusate risolviamo sopra esatto qui due bracci ma questo non era il pezzo che c'è qua altare nella foresta piccola chiave polvere da sparo però non mi sembra che ci sia nulla tanto questa è ricaricata poi questa non c'è bisogno perfetta carica e quindi niente ragazzi lo spazio è questo e niente ragazzi lo scarto al pesce pianta verde perché mi ci posso fare subito mescela pianta verde rossa sì ok dove oltre a recuperare lo spazio abbiamo fatto possiamo recuperarlo ormai l'abbiamo persa va bene che resa c'è qua ecco l'abbiamo preso quello che c'era non mi sembra che ci sia nulla almeno intorno all'altare ne ce ne possiamo tranquillamente andare e possiamo ritornare indietro cioè forse bisogna andare a vedere la non lo so qua no quello è il piedistallo rimessa tanto andiamo alla rimessa per prendere sto pesce va ecco ah simpatico sei una maledizione una maledizione c'è quella che ti muoere dove sta sei che stai punto la stai il prossimo vai non puoi camminare ah 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 il cuore guarda che ti trasformi cosa prima che si trasformano tutti ammazzo tutti poi dopo parliamo poi dopo parliamo amici allora mi mangio un ovetto vai a dire che questo è pesce persico trota gigante ecco ti pareva vale 8 slot io non ti trovo 8 slot 1,2,3,4,5,6,7,8 chi è? andiamo a trovare il posto era il persico trota quello che voleva dove stava? scusa erano sotto questi documenti vendino odorato pesca grossa l'olio di pesce vendi un persico trota gigante perfetto l'abbiamo acchiappato quindi adesso ragazzi andiamo subito a vendercelo e ci andiamo 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 dal nostro amichetto dal nostro amichetto che sta all'interno quindi dobbiamo girare dobbiamo andare qua laggiù allora eccoci amichetto nostro stiamo arrivando amichetto nostro oh ciao benvenuto bene che posso fare per te alla prossima allora scusa ma andiamo sotto oppolò la mappa un attimo perché dobbiamo chiave della chiesa cioè mi stai dicendo che ci sono passato davanti e non l'ho vista? mi stai dicendo che ci sono passato davanti e non l'ho visto? ecco per l'appunto ecco per l'appunto ecco qua ecco qua andiamo a questo devo sbloccare quest'altro una l'abbiamo trovata ok torniamo alla barca e amici noi ci però per il momento ci fermiamo qua io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date vi invito a seguirmi su tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti che vi porto condividete con i vostri amici e ci vediamo al prossimo episodio ciao predoni